Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova video lezione come al solito faccio una brevissima premessa prendete il vostro libro e il quaderno per gli appunti soprattutto cercate di segnare quelle che sono le parole più complesse i concetti più difficili effettuate delle ricerche nel caso ci fosse qualche parola un pochettino più complessa e soprattutto ponete le vostre domande come commento al contenuto che pubblico su Classroom proseguiamo come dicevo il nostro lavoro, il nostro percorso sulle fibre tessili di origine naturale, nello specifico vegetale e abbiamo parlato del cotone, abbiamo visto l'importanza del cotone nell'industria tessile oggi affronteremo le altre fibre tessili di origine vegetale ed iniziamo a parlare proprio del lino che cos'è? innanzitutto guardate attentamente, studiate attentamente questa sintetica mappa concettuale e cercate anche di eventualmente ricopiarla oppure modificarla secondo quelle che sono le vostre esigenze e in questa mappa concettuale proprio sono evidenziati tutti i punti della lezione sul lino il lino è una fibra di qualità di uso antichissimo ed è la fibra tessile che si ricava dall'omonima pianta del lino e nello specifico dallo stelo, dal fusto dell'omonima pianta erbacea le fibre si ricavano dallo stelo come ho detto e sono dei vasi conduttori che trasportano l'acqua dalle radici alle foglie ricordate quando abbiamo studiato il legno e nello specifico abbiamo visto come è composta una pianta, un albero e all'interno del fusto ci sono dei vasi conduttori che trasportano la linfa grezza dalle radici alle foglie e degli altri tessuti sempre vascolarizzati che trasportano la linfa elaborata nel caso specifico proprio le fibre di lino si ricavano proprio dallo stelo che è costituito da questi vasi che contengono proprio che trasportano l'acqua dalle radici alle foglie sono, li potete immaginare come dei sottili capelli che hanno una lunghezza che si aggira intorno ai 60-120 cm dipende dalla varietà del lino la pianta è originaria dell'Asia minore e già sia i babilonesi che gli egiziani usavano le corde di lino per innalzare i blocchi di pietra per realizzare le loro costruzioni quindi immaginate, riflettete su come le fibre di lino siano estremamente resistenti alla trazione oltre a questo di lino anche erano ricavate le bende con cui erano a volte le mugne dei faraoni il lino si coltiva oggi in regioni a clima prevalentemente temperato umido e soprattutto in Europa come in Francia, Olanda e Romania e anche nella zona, nelle repubbliche dell'Europa dell'ex Unione Sovietica cerchiamo adesso di capire come avviene la produzione ed il ciclo produttivo del lino il lino è una pianta annuale ed ha un ciclo vegetativo di circa 4 mesi la semina, come nel caso del cotone si effettua su un terreno che è stato arato e pianeggiato e viene effettuata mediante una macchina seminatrice le piante vengono seminate, come vedete in questa immagine molto fitte questo perché? Perché in questo modo la pianta non prende molto vigore quindi gli steli restano estremamente esili e in questo modo i vasi conduttori che caratterizzano proprio gli steli restano sottili e quindi successivamente le fibre saranno molto più fini e morbide dopo circa 3 mesi dalla semina le piante hanno uno stilo di circa 1 metro il fiore può variare a seconda delle varietà del lino dal bianco ma generalmente si presenta su una gradazione di azzurro estremamente tenue alla fine del quarto mese gli steli vengono raccolti con queste macchine qui vi ho messo alcune immagini che permettono di capire come avviene la raccolta meccanica del lino infatti queste macchine guardate, sdradicano la terra e quindi non tagliano lo stelo ma proprio lo sdradicano in questo modo perché viene fatto le fibre non vengono accorciate quindi lo stelo non verrà accorciato ma viene completamente raccolto dalle radici alla parte superiore alla parte dove ci sono i fiori la pianta una considerazione molto importante da fare è che la pianta viene raccolta prima della maturazione dei semi questo perché? per evitare la lignificazione cos'è questa lignificazione? è l'irrigidimento delle cellule che si impregnano di lignina ricordate anche in questo caso la lignina è quella sostanza che permette fa quasi da colla diventa estremamente rigida la fibra se presente la lignina e quindi la presenza di lignina non farebbe altro che danneggiare la finezza delle fibre stesse dopo la raccolta guardate queste immagini le piante vengono raccolte in fasci e le scime la parte superiore dello stelo vengono battute per recuperare i semi per ottenere le fibre tessi gli occorre innanzitutto separare le fibre dalla pianta queste fibre infatti sono saldate tra di loro da una sostanza che prende il nome di pectina e che costituisce un vero e proprio collante naturale questa separazione in passato si otteneva con la macerazione dei fusti in acqua stagnante mentre oggi in modo molto più rapido questa macerazione viene fatta in delle vasche dove c'è dell'acqua riscaldata a circa 30 gradi questo qua questo ha lo scopo scusatemi quindi si è bloccata la penna quindi questa ha lo scopo proprio di sciogliere la pectina per separare le diverse fibre dopo l'essiccazione al sole dei fasci che sono stati già macerati questi fasci subiscono altri trattamenti meccanici abbiamo la stigliatura che separa la parte fibrosa dalla parte legnosa con la maciullatura invece il materiale viene fatto passare tra due serie di rulli e questo per separare le sostanze legnose ed quindi che sono estrane che quindi andrebbero a danneggiare le fibre dalla fibra vera e propria questa viene chiamata filaccia infine abbiamo la scotolatura che conclude la pulizia delle fibre successivamente le fibre sono sottoposte alla pettinatura guardate questa immagine che permette la separazione delle fibre troppo corte e spezzate che vengono definite stop eccole qui da quelle invece più lunghe e che quindi sono adatte ad essere successivamente filate e infine tessute il lino più pregiato è quello ancora non maturo come abbiamo detto e il colore dipende dal tipo di macerazione subita degli steli e varia dal bianco al giallognolo quasi fino al grigio il più pregiato di tutti è il lino che si presenta bianco argente o molto molto lucente le stoppe che sono le fibre corte e spezzate costituiscono un sottoprodotto della lavorazione del lino e sono utilizzate come materia prima nell'industria cartaria perché contengono cellulosa e nella preparazione dei cordani questi dai semi del lino si ottiene l'olio del lino che è utilizzato nell'industria delle vernici per creare quello che viene definito linoleum in farmacia anche usi farmaceuti come emolliente quali sono le caratteristiche le proprietà e gli impieghi del lino come abbiamo detto le fibre del lino sono ricavate dal fusto e sono lunghe circa 50-60 cm questo conferisce al lino della proprietà delle resistenze meccaniche estremamente maggiori rispetto a quelle del cotone e sicuramente è migliore l'attitudine alla successiva filatura poiché le fibre del lino contengono anche oltre alla cellulosa dei grassi delle cere il lino si presenta ha una caratteristica estetica migliore rispetto a quella del cotone infatti si presenta con una brillantezza ed un aspetto che lo caratterizzano e quindi i tessuti fatti il lino riescono ad avere questo colore argentato luminoso che ne definisce che sicuramente è una proprietà estetica molto importante infine il lino ha un'elevata conducibilità termica questo che cosa consente consente al tessuto che è realizzato il lino di avere una sensazione di freschezza che trasmette quando viene indossato ed è un'ulteriore proprietà che fa del lino una fibra molto pregiata e dal costo piuttosto elevato gli impieghi della fibra di lino quindi sono quasi esclusivamente tessili dai filati si ottengono tessuti finissimi e di qualità per la biancheria per le lenzuola per i corredi di pregio della casa ed infine in particolare il lino è ricercato nella produzione di capi di abbigliamento per la per la stagione estiva quindi quella più calda e come vedete ulteriori utilizzi non in campo tessile sono quelli per la produzione di corde e fili grazie a tutti Grazie a tutti